Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo di rappresentazione dei dati, in particolare ne parleremo per quanto riguarda JavaScript. Parliamo innanzitutto di un sottinsieme dei dati che possiamo trattare, in particolare noi faremo riferimento a quelli che di solito vengono chiamati open data. Cosa sono gli open data? Sono dati che possono essere utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque con qualunque scopo. Nella definizione più generica si tratta di conoscenza che è aperta e la conoscenza è aperta se è disponibile a chiunque con un accesso libero, con la possibilità di uso e modifica liberi, con la possibilità di condividere, con l'unico vincolo di mantenere l'apertura con cui i dati erano stati condivisi inizialmente. In generale una licenza aperta, ovvero una licenza che definisce quello che è un dato aperto, prevede dei diritti di uso, quindi concede la possibilità di utilizzare i dati liberamente, prevede dei diritti di ridistribuzione, quindi permette di andare a ridistribuire i dati eventualmente modificati con altre licenze, ovviamente mantenendo un riferimento alla sorgente e permette la modifica, quindi la creazione di quelli che si chiamano dei lavori derivati. Oltretutto permette di avere dei diritti di separazione, ovvero la possibilità di andare a prendere non tutto il lavoro, ma soltanto dei pezzi modificali, eventualmente ridistribuirli e usarli in maniera assolutamente libera. Quando parliamo di dati aperti, di solito andiamo a definire diversi livelli di apertura da un punto di vista tecnico e realizzativo. Innanzitutto i dati aperti devono essere online, quindi devono essere accessibili liberamente. Devono essere machine readable, ovvero deve essere possibile andare a scrivere un programma che sia in grado di acquisire questi dati. Per cui, ad esempio, la scansione di un documento fatta con uno scanner o con una foto normalmente non è machine readable, perché i dati contenuti al suo interno non sono leggibili facilmente. Inoltre devono essere distribuiti tramite quello che è un formato aperto, ovvero un formato che sia liberamente adottabile da chiunque. E in particolare i formati aperti più diffusi per la distribuzione dei dati sono il formato CSV, Common Separated Value, il formato JSON e il formato XML, di cui parleremo un po' più nel dettaglio. In realtà esiste una classificazione di quelli che sono i dati aperti, ovvero di quanto sono aperti, basato su cinque livelli, ed è quella che viene chiamata la classificazione di cinque stelle, dove le cinque stelle vengono assegnate ai dati che sono completamente aperti e sono anche collegati eventualmente ad altri dati. Come rappresentiamo i dati, specialmente in JavaScript? Iniziamo a ragionare su un insieme di dati possibili, che sono i dati di formato tabulare, ovvero sono dati che sono organizzati in righe. Ogni riga contiene delle informazioni relative a qualche entità, a qualche elemento, persone, fatture, oggetti, prodotti, e quello che volete. Tutte le righe tendenzialmente hanno lo stesso numero di celle, eventualmente anche vuote, e in particolare le celle nella stessa posizione vanno a descrivere la stessa proprietà di tutti gli elementi che sono descritti da diverse righe. E normalmente nella prima riga non c'è la descrizione di un elemento, di un item, ma bensì ci sono quelli che vengono detti gli header, ovvero dei nomi che vanno a identificare quelle che sono le proprietà descritte dalle celle che si trovano nella stessa posizione nelle righe successive. Un esempio di dato tabulare è questo, dove abbiamo in particolare la prima riga che contiene quelli che sono gli header, e poi le righe successive che contengono informazioni. Qui vedete che si tratta di personaggi di una fiction, ognuno è riportato e viene descritto da tre proprietà, un identificatore, assolutamente fittizio, un cognome e un nome. Quindi nel caso specifico qui abbiamo quattro entità che sono descritte da queste quattro righe, più una riga iniziale che contiene i titoli delle colonne, se vogliamo chiamarli così, o normalmente chiamati header. Come rappresentiamo questi dati andando a utilizzare JavaScript? Sostanzialmente i dati di formato tabellare in JavaScript sono descritti come un array, dove ogni elemento dell'array rappresenta una singola riga, e le righe sono rappresentate in termini di oggetti dove ogni proprietà che noi andiamo a descrivere degli elementi corrisponde a una proprietà dell'oggetto, per cui nel caso specifico noi abbiamo una proprietà id, una proprietà surname e una proprietà name. Queste proprietà sono esattamente le stesse in tutti gli oggetti. Se qualche proprietà manca, come avviene normalmente in Java, nel momento in cui cerchiamo di accedere a quella proprietà, il risultato sarà undefined, e quindi è un po' come se nella tabella quella cella fosse vuota, quindi non è presente. Che formato possiamo utilizzare per andare a memorizzare in maniera permanente i dati? Abbiamo menzionato una serie di formati, diciamo che quello che storicamente è stato utilizzato prima è stato il formato XML. XML sta per Extensible Markup Language, ed è un linguaggio di markup, ovvero un linguaggio che prevede del testo inframezzato da dei markup, ovvero i tag, esattamente come nel caso di HTML. È un formato testuale, quindi è leggibile dagli esseri umani, oltre che dai programmi, e ha una serie di meccanismi che permettono di andare a definire la struttura e di validarla. Storicamente ci sono stati diversi livelli di definizione, quindi inizialmente la struttura di un documento XML era definita tramite quello che si chiamava EDTD, ovvero Documentary Definition, successivamente, quindi nelle versioni un po' più moderne, sono stati utilizzati quelli che si chiamano gli XML schema, ovvero una versione un po' più raffinata che descrive quali dati possono comparire, in quale formato, che valori possono assumere, eccetera. Ci sono dei parser che sono in grado di leggere i contenuti XML e convertirli in strutture dati interne per tantissimi linguaggi, e se andiamo a vedere JavaScript, siamo in grado di andare a leggere un contenuto XML e di rappresentarlo tramite un DOM. Quindi, esattamente come abbiamo il Document Object Model per una pagina HTML, possiamo costruire facilmente un Document Object Model per un documento XML, che avrà una struttura ad albero analoga a quella di una pagina HTML. Quando andiamo ad accedere a dei dati che sono memorizzati in formato XML, normalmente il MIME type che ci viene restituito dal server web è Application XML. Questo è un esempio di come possiamo rappresentare la tabella che abbiamo visto prima in formato XML. Ovviamente non è l'unica possibilità, ma è giusto per dare un'idea di come potrebbe essere strutturato il dato tabellare che abbiamo visto prima utilizzando XML. Notiamo che c'è un elemento principale, che è characters, che inizia qui e finisce qui sotto. Vedete che i tag sono assolutamente analoghi a quelli che troviamo in HTML e sono definibili da noi, quindi siamo noi che andiamo a decidere come rappresentare il dato, che scegliamo i nomi dei tag e come possiamo annidarli. Quindi character sostanzialmente rappresenta l'insieme dei personaggi e poi abbiamo i vari character, uno dopo l'altro, che rappresentano sostanzialmente le entità che andiamo a descrivere nella tabella e che nella tabella erano rappresentati uno per riga. Quindi per ogni character abbiamo un id, un surname e il name, che sono le tre proprietà dei nostri personaggi. Ovviamente abbiamo uno, due, tre e quattro character che rappresentano sostanzialmente le quattro righe della tabella, esclusa ovviamente la riga iniziale con gli header. Come facciamo a leggere questi contenuti? Abbiamo la possibilità di utilizzare un oggetto di tipo DOM parser che ha un metodo che si chiama parse from string che è in grado di prendere una stringa e generare quello che è il DOM relativo all'XML. Per cui, ad esempio, possiamo in questo caso andare a creare un oggetto DOM parser con new DOM parser, quindi DOM parser è sostanzialmente il costruttore di questo oggetto e poi andare a utilizzare il metodo parse from string che parte dal contenuto XML, che è quello che sostanzialmente abbiamo visto qui un attimo fa, indica che si tratta di un'application XML e va a memorizzare dentro questa variabile TOC il contenuto del DOM. Per cui possiamo utilizzare sul DOM i metodi che abbiamo già visto applicati sul DOM dell'HTML, ad esempio il getElementsByTagName. Quindi andiamo a prendere gli elementi con tag name, tra questi andiamo a prendere il quarto e di questo andiamo a prendere il contenuto testuale. Quindi text content, di nuovo, funziona esattamente come funzionava in HTML e ci dà il contenuto testuale di un particolare elemento. E quindi il risultato è questo. Quindi se andiamo a vedere il nome 1, scusate, indice 0, indice 1, indice 2 e indice 3, il contenuto testuale è questo. Il secondo modo di andare a rappresentare i dati è tramite quelli che si chiamano i file CSV. CSV sta per Comma Separated Values ed è un formato testuale che permette di rappresentare tipi di dati tabulari. Faccio notare che mentre XML è in grado di rappresentare tipi di dati anche più complessi, quindi con strutture più complesse rispetto a quella tabellare, CSV invece è in grado di rappresentare esclusivamente dei dati in formato tabulare. Ogni riga è rappresentata da una riga di testo, terminata da una capo, i campi all'interno di una riga sono separati dalle virgole, la prima riga contiene quelli che si chiamano header e quando dobbiamo andare a rappresentare delle stringhe complicate le mettiamo tra apici. Se dobbiamo andare all'interno di queste stringhe a rappresentare anche l'apice, la convenzione in CSV è di andarlo a raddoppiare. Quindi mettere doppio apice, doppio, doppio apice. Quindi questo doppio apice che vediamo qua sostanzialmente verrà poi letto come fosse un singolo apice invece che come terminazione della stringa che vogliamo andare a rappresentare. Quando un server ci fornisce un contenuto di tipo CSV, il suo MIME type è text CSV. Se vogliamo andare a rappresentare la tabella che abbiamo visto prima in CSV, ecco, questa è la modalità con cui potremmo rappresentare. Quindi abbiamo la prima riga che contiene gli header e poi abbiamo le varie righe con gli identificatori, i cognomi e i nomi. Come facciamo a leggere un contenuto CSV e andarlo a elaborare? Questo è un esempio di codice che è in grado di andare a analizzare un contenuto CSV. Quindi non esiste una funzione predefinita ma possiamo utilizzare ad esempio quella che vediamo qua. Vedete che partendo da un contenuto CSV facciamo un'operazione di split in corrispondenza di a capo o ritorno di carrello. Poi andiamo a analizzare quelli che sono gli header, quindi prendiamo la riga 0 e facciamo un'operazione di split in corrispondenza delle virgole. Quindi il risultato è sostanzialmente quello di andare ad avere un array dove ogni elemento corrisponde a uno degli header, quindi uno degli elementi della prima riga. Dopodiché si parte da un array vuoto e per tutte le righe, partendo ovviamente dalla seconda, quindi quella con indice 1, andiamo a definire un oggetto riga e facciamo un'operazione di split in corrispondenza della virgola e per ognuno degli elementi andiamo a mettere all'interno dell'oggetto row la cella jesima. Dove lo andiamo a mettere? Lo andiamo a mettere in una proprietà che si chiama fields di j, dove fields è l'array che abbiamo costruito andando a prendere gli elementi della prima riga, quindi ogni oggetto avrà come proprietà i nomi che compaiono nella prima riga, quella degli header, del nostro file CSV. Una volta costruito l'oggetto andiamo a fare un'operazione di push di questo oggetto all'interno dei dati e alla fine, una volta fatta l'iterazione su tutte le righe del nostro CSV, abbiamo il nostro array dove i singoli elementi sono oggetti e dove ogni oggetto ha come proprietà i nomi delle colonne, quindi gli header che compaiono sulla prima riga. Quindi utilizzando questo metodo quello che posso fare è andare a leggere il contenuto CSV e dopo se voglio andare ad accedere al stesso contenuto di prima vado a prendere i miei dati, vado a prendere la riga 3 e in particolare vado a prendere la proprietà name, quindi jdd3 mi dà l'elemento della quarta riga e name mi dà sostanzialmente la sua proprietà nome. Ultimo formato che esaminiamo nel contesto di questo corso è il formato JSON. JSON sta per JavaScript Object Notation ed è un formato che è utilizzato sostanzialmente per scambiare dati, soprattutto quando i programmi che utilizzano questi dati sono scritti in JavaScript. È un formato molto leggero, è molto più compatto e più semplice da leggere rispetto a XML, è indipendente dal linguaggio, quindi è sì legato a JavaScript, perché assomiglia molto a notazioni come potremmo scrivere gli oggetti in JavaScript, ma tuttavia può essere tranquillamente letto da qualunque altro linguaggio, letto o scritto. È facile da leggere perché si descrive da solo, nel senso che abbiamo gli oggetti, abbiamo i nomi delle proprietà, esattamente come nell'esempio che abbiamo visto prima, ed è stato standardizzato, quindi esiste un'estensione che si chiama JSON e quando un server ci offre i contenuti di questo tipo, sostanzialmente il MIME type che ci restituisce è application.json. Come facciamo a leggere, scusate, come facciamo a rappresentare la tabella di prima utilizzando una notazione JSON? Ebbè, sostanzialmente è questa. Questa tabella, se notate, se ricordate, è molto molto simile alla tabella che abbiamo descritto, scusate, alla notazione che abbiamo utilizzato prima per descrivere un formato, un dato tabulare in JSON. Questa è sostanzialmente la versione che noi scriviamo in JavaScript per andare a rappresentare gli stessi dati. Vedete che la situazione è molto simile, ora torno alla versione JSON. La differenza che possiamo notare è che nella versione JSON i nomi delle proprietà sono racchiusi tra doppi apici. Questa è una convenzione che viene utilizzata in JSON e permette di scrivere delle proprietà che abbiano dei nomi che, ad esempio, contengono degli spazi, cosa che invece, se non fossero quotati tra doppi apici, non riusciremmo a rappresentare. Quindi, a parte questo dettaglio in cui i nomi sono racchiusi tra doppi apici, è molto molto simile a quello che scriveremmo direttamente in JavaScript. E in effetti questo codice potrebbe essere preso e copiato all'interno di JavaScript e tranquillamente è codice JavaScript corretto. Come faccio a leggere questo contenuto e manipolarlo in JavaScript? Beh, sostanzialmente abbiamo all'interno di JavaScript un oggetto predefinito che si chiama JSON che ha un metodo che si chiama parse che è in grado di andare a leggere un contenuto JSON e restituirci quello che è il contenuto. Per cui, quando io faccio parse e passo il contenuto JSON come in questo caso, vado a prendere poi la terza riga e in particolare la proprietà name esattamente come avrei fatto con il codice CSV e quindi ottengo esattamente lo stesso dato di prima. Quindi, sostanzialmente, è molto facile utilizzando JSON, utilizzando CSV ottenere la stessa rappresentazione tabulare che abbiamo visto all'inizio. Anzi, nel caso di JSON la rappresentazione è praticamente quasi uguale a quella di partenza.